salve maghi babbani e maghi no perché no e benvenuti in questo nuovo video in cui andiamo ad approfondire la saga letteraria di Harry Potter un personaggio alla volta dopo esserci dedicati a Rubeus Hagrid e Luna Lovegood negli scorsi due video e devo dire vi devo ringraziare dell'interesse che avete dimostrato nei confronti di questa piccola serie perché è bello parlare di un'opera quando c'è qualcuno che ti ascolta oggi andiamo a parlare di un altro personaggio o meglio di una famiglia di personaggi che come avrete capito dal titolo è la famiglia d'Arsley questo aspetto della saga letteraria è un po' particolare perché quando si pensa agli aspetti che sono stati rovinati dalla trasposizione cinematografica di un'opera di solito ci si concentra sui personaggi che abbiamo amato di più perché è l'aspetto che ci colpisce maggiormente siamo infatti tutti lì che diciamo hanno dato abbastanza spazio a Hagrid, hanno dato abbastanza spazio a Armione, a Luna, a sto cazzo ma non ci concentriamo mai sul fatto che alcuni dei personaggi negativi di questa serie come Mondungus ad esempio come la famiglia d'Arsley di cui parleremo oggi sono stati mutilati tanto quanto i personaggi positivi e forse anche un po' di più. C'è da dire che sebbene nei primi terri film della saga cinematografica la presenza dei Darsley sia molto simile a quella dei libri sebbene ci sia qualche differenza non è così calzante andando avanti nella saga dal quarto film in poi la loro presenza va sempre più riducendosi al punto che sono stati tolti proprio da interi film e l'hanno lasciati solamente laddove non potevano fare altrimenti come nel caso del quinto film. Il che è grosso peccato perché vedere Darsley sparire dal quarto, dal sesto e praticamente dal settimo film sebbene compaiano il loro spazio è molto limitato fa male a tutti i lettori di Harry Potter perché sappiamo quanto è stato importante il rapporto fa Harry e Darsley e l'importanza che hanno ricoperto nella sicurezza di Harry nel corso della loro vita. Cominciamo quindi a parlare di Darsley al primo libro e ci muoveremo nel corso dei vari libri andando a vedere fino alla fine qual è stato il ruolo di Darsley nella saga cinematografica e le varie differenze che corrono fra libri e film. Cominciando dal primo libro ovvero Harry Potter e la piatta filosofale come ho detto nel video di Rubeus Hagrid dovete sapere che i libri cominciano in modo leggermente diverso rispetto a come comincia il film. Infatti il libro della piatta filosofale non comincia con Silente che lascia il piccolo fagottino Harry alla porta di Darsley ma comincia con la giornata tipo di Vernon. Mi ha spiegato che Vernon lavora in questa ditta è il classico uomo qualunque il classico borghese che lavora in questa ditta che vende trapani, vende saldatori, vende attrezzi e la sua giornata è un po' particolare quel giorno perché viene fermato continuamente in giro da persone strampalate, vestite strane, con cappelli voluminosi e appariscenti e con questi vestiti lunghi che festeggiano per strada e non sono in grado di mantenere la propria gioia, fregandosene dello statuto di segretezza. Infatti stiamo parlando di maghi e stanno ovviamente festeggiando perché Voldemort ha tentato di uccidere Harry e l'incantesimo, la maledizione a vada che David gli ha ribalzato addosso e per questo il regno del terrore di Voldemort è finito, almeno per ora. La giornata quindi di Vernon non era cominciata nel modo migliore perché Vernon odia le cose strane, gli piace la normalità, gli piacciono le cose che vanno in un certo modo e che può prevedere e sicuramente non è migliorata nel momento stesso in cui viene lasciato sulla porta di casa il piccolo Harry. Harry verrà lasciato con una lettera da parte di Silente di cui scopriremo l'esistenza solamente nel quinto libro che invita, mettiamola così, Petunia, la sorella della mamma di Harry, la sorella di Lily Evans, a prendersi cura di Harry ora che è rimasto orfano. La vita di Harry insieme ad Arsene non è tutta rosa e fiore sicuramente, è costretto a subire atti di bullismo da Dudley e dalla sua gang a scuola ed è costretto a subire atti di bullismo da parte dei suoi zii a casa. E qui si vedono piccole manifestazioni della magia di Harry che non ci sono nel film, infatti Harry, per esempio, Petunia taglia i capelli malissimo per non mandarlo da parrucchiano a spendere soldi e lui per il terrore di andare a scuola con quei capelli fatti a cazzo se li fa ricrescere durante la notte involontariamente oppure per scappare dalla gang di Dudley si ritrova sul tetto della scuola, insomma cose varie, però lo crescono comunque, lo crescono in un ambiente ostile costretto a vivere nel sottoscala, sebbene Dudley abbia addirittura due camere, una camera per sé, una camera dedicata ai propri giochi in cui si trovano le cose rotte, le cose che funzionano, perché gliene regalano una quantità esorbitante, come si vede nel primo compleanno diventato celebre nel film, ed Harry è costretto a vivere in quel modo, con i Darsley che favoreggiano pesantemente i propri figli a scanzo dei propri nipoti. La vera e propria storia comincia il giorno del compleanno di Dudley, che oltre ad aver ricevuto una camionata di regali, viene portato allo zoo, allo zio, insieme a un suo amico e insieme a Harry, a cui viene intimato di non fare cose strane, perché i Darsley lo sanno cosa è, sebbene non lo vogliono ammettere, sperano che questa malattia genetica che ha contratto Harry dai suoi genitori vada scomparendo. Non funzionerà così, infatti durante il compleanno di Dudley, Harry farà sparire della vetrata del pitone, tanti hanno pensato che potesse essere la stessa Nagini, che poi si è riguardata in quel modo, ma dovrebbe essere stato negato questa cosa qui, e penso anche se è stato ripreso il pitone, perché voglio dire, va bene che l'ha liberato Harry, ma non è un gheppardo, nel senso, è un pitone, va piano, lo ripie. E cominciano a succedere cose strane, ovvero Harry comincia a ricevere una certa corrispondenza, che gli dice che è un mago, un maghetto coi fiocchi, dopo aver studiato un pochetto, e i Darsley non vogliono assolutamente fargli leggere questa lettera, provano in tutti i modi, debruciano, sigillano la fessura delle lettere, se ne vanno in questo posto di roccato, dove verranno raggiunti da Hagrid, che comunicherà a Harry di essere un mago e lo porterà via. Prima però di aver timato il silenzio a Vernon, prendendogli il fucile di mano, perché Vernon stava minacciando con fucile, gli prende il fucile e lo annoda, e gli lo ridà, per farvi capire che elemento è Hagrid, troppo bello. E così Harry riesce a scappare dalla presa dei Darsley, ma solamente fino alla fine dell'anno scolastico, infatti sebbene lui chieda a silenzio e se non ha la possibilità di rimanere a Hogwarts, di fatto ripercorrendo gli stessi passi che aveva fatto un giovane Tom Riddle molti anni prima, Harry è costretto a tornare ogni estate da Darsley e il motivo di questo si scoprirà ovviamente nel quinto libro. Il quinto libro è il libro delle risposte al 75%, l'altro 25% viene dato nell'ultimo. Uno dei piccoli dettagli interessanti è che all'abbinare 9 ¾ non lo accompagna Hagrid, ma lo accompagnano i Darsley, perché nel senso non è immediato portarlo al binario, ok? Quando Hagrid porta la lettera e poi lo porta a diagonale, poi passano mesi prima che vada a scuola, e gli dicono guarda non è che ti vogliamo portare noi al binario, adesso non posso zundere i Darsley, però visto che dobbiamo andare per forza a Londra, perché dobbiamo far operare di Dino, perché io vi ricordo che ancora la coda da porco, da porco? Un po' sardo sono oggi, ancora la coda da porco che gli ha dato Hagrid, e gli viene operato, gli viene tolta la magia, gliela tagliano via, quindi ci avrà il buchino, il buchino sopra il buchino, e Vernon è anche abbastanza infimo nei confronti di Harry, fa vedere i binari, che c'è il binario 9, binario 10, gli fa vedere eh, non c'è il binario 9, tre quarti, ora te sei in cure, e va via. Questa cosa si ripeterà, non nel senso che stanno sempre loro ad accompagnarlo, ma molto spesso i libri finiscono con Harry che va verso i Darsley, che sono andati a prenderlo alla stazione, questa è una cosa importante, perché in libri come il quinto, l'ordine della finisce, che è il mio preferito, succede una cosa interessante alla fine, ma ci arriveremo per gradi. Nel secondo libro, Harry di nuovo dai Darsley, è costretto a stare lì, hanno paura di lui, ora stavolta, perché dopo un anno che è stato in una scuola di magia potrebbe fare qualsiasi cosa con una bacchetta, quindi sebbene lo trattassero comunque di merda, cercano di andarci un po' cauti. Tutto cambia nel momento stesso in cui arriva Dobby a casa di Harry. Harry in questo momento si trova nella seconda camera di Dino, che era diventata sua, perché dato che non vogliono farlo incazzare, non lo fanno più stare nel ripostiglio sotto le scale, nell'armadio delle scope, ma lo fanno stare in una camera decente ora. Harry viene intimato di restare pieno di sopra, perché devono arrivare dei clienti importanti per Vernon, a cui deve vendere appunto dei trapani, credo, Harry dovrà far finta di non esistere, perché il negazionismo di Darsley arriva all'ennesima potenza. Se non fosse che in camera di Harry appare, appunto, Dobby, che è nella sua missione personale di non far tornare Harry a scuola per salvarlo dalla riapertura della camera dei segreti, e che pianta prima un casino perché è commosso dal fatto che Harry lo tratti bene e tutto, e poi far levitare una torta e la fa cadere non sulla signora, ma la fa cadere al centro della stanza e fa tipo esplodere la torta ovunque. I Darsley si giustificano dicendo che è uno squilibrato e per questo lo teniamo nascosto. La cosa interessante è che io continuo a sbagliare nel dire Darsley e Dudley, perché chi cazzo chiama suo figlio Dudley se ti chiami Darsley? Dudley Darsley, ma perché volevi così male? Allora sei proprio stronzo anche da tuo figlio. Questo è un aspetto molto importante, non il cognome ovviamente, ma il fatto della torta, perché sebbene nel film sia stata dimenticata questa cosa, che è grave perché crea una incoerenza che poi si porta davanti per tutto il resto dei film, dopo questo evento il ministero scrive a Harry, gli manda una lettera dicendo che cazzo fai, non puoi usare incantesimi liberazione davanti ai babbani e per questo lo ammoniscono dicendo che non puoi usare magia fuori dalla scuola. Il problema è che questa lettera non la legge barra sente solo Harry, ma la legge barra sente anche Vernon. E Vernon gli dice, ah ma allora ha detto cazzate, allora non puoi usare la magia e quindi cosa fa? Lo mura letteralmente in casa, gli mette le sbarre alle finestre, lo chiude alla porta facendo interesse solamente al cibo dicendo che se non può più tardare la scuola, verrà esputso e finirà questo incubo della magia, che portano avanti ormai da tutta la vita, da quando sapevano che la sorella di Lily era maga. Dall'altro, parlando di questa cosa di negazionismo dei Darsley, avevano dito a Harry che i suoi genitori erano morti in un incidente, non che erano morti combattendo l'altro Voldemort, cosa che fa leggermente incazzare Hagrid, ma in realtà la scena della coda avviene solamente nel momento stesso in cui offendono Silente, sai che Hagrid dà un po' di matto, watch out, we have a bad ass here, e Hagrid dà di matto e fa casino. Comunque, sì, sono un po' stronze i Darsley, vogliono negare a tutti i costi che esista la magia. I loro piani di reclusione con fronte di Harry andranno fallendo perché arrivano i Weasley, arrivano Fred e George e Ron a cavallo della loro Ford Anglia volante, che porteranno in salvo Harry e lo porteranno verso un nuovo anno scolastico. Il terzo film è quello che può essere considerato canon come trasposizione della saga letteraria perché è l'ultimo che dà rispetto a Darsley come personaggio, sebbene abbia cambiato qualcosa la scena che succede più o meno la stessa. Harry si ritrova di nuovo da Darsley, sanno che non può usare magie, quindi la vita è un po' grama per Harry, e cerca di fare buono perché ha bisogno di un favore da parte di Verna. Infatti nel terzo anno a scuola, a Hogwarts, i ragazzi hanno dei weekend determinati durante l'anno in cui possono andare a visitare Hogsmeade, che è un villaggio simile a Diagonale, però si trova vicino a Hogwarts, in cui si trovano le cose più belle, tipo Mielandia, tipo Zonko, che sono rispettivamente un negozio di dolci incredibile, un negozio di giocattoli incredibile, e c'è anche la taverna, c'è la testa di porco e tante altre cose. E Harry vuole andarci ovviamente. Se non fosse che Verna non è infame, anche se non sa cosa sia, dice no, e poi dice vedremo, te la firmo se farai bravo in questi giorni, perché in quei giorni doveva andare a trovare Verna la sua sorella, ovvero zia Marge con il cane squarta. Purtroppo, come la storia ci insegna, Harry prova a fare bravo, ci riesce per diversi giorni in cui supporta le calunnie che vengono detti dai suoi zii, e da quella cicciona sui suoi genitori, fino a che non esplode, gonfia la zia involontariamente in un eccesso di magia, sebbene non voli via, semplicemente gonfia lì, e decide di scappare di casa, dove vedrà il gramo, riuscirà a salire su nottetempo, e bla 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 bla. Cornelio Scaramer andrà in conto a Harry, dirà che hanno sgonfiato la zia, l'hanno modificato la memoria, quindi niente di fatto, non c'è problema. Ma Harry dovrà tornare di nuovo a Diceley a fine anno, perché lo aspetta, veramente il suo destino deve tornare ogni anno a casa, e non è felicissimo di tornare da Diceley dopo aver gonfiato la zia, quindi è contento che passi un anno e che abbiano la possibilità di sbollire un pochino. Infatti dovete sapere che la maggior parte degli studenti a Natale torna a casa, non è che stanno tutto l'anno a scuola, da settembre a giugno, a Natale hanno le vacanze come tutte le scuole del mondo e tornano a casa, tranne coloro che in casa non ce l'hanno, fondamentalmente, o coloro che vogliono rimanere a scuola per studiare e altre cose, tipo Harry rimane fisso a scuola, e i suoi amici di tanto e tanto lo aiutano, mettiamola così, a supportare la solitudine, però, tipo a volte Ron torna a casa, a volte Hermione torna dalla propria famiglia, come nel caso del quinto film. Però sì, ecco, Harry ci rimane sempre, anche perché i Darsley gli scrivono continuamente dicendo, vedi se può rimanerci anche l'estate, ma non può, ovviamente. E un piccolo dettaglio che penso sia stato messo dai film, i Darsley mandano i regali di Natale a Harry, infatti nella pila di regali che trova sempre alla base del suo letto, in cui c'è il regalo di Hagrid, solitamente c'è il maione fatto dalla signora Weasley, e ci sono i regali di Ron e di Hermione, ovviamente, dei suoi amici, c'è sempre il regalo dei Darsley, che sono ovviamente cose inutili e brutte, tipo una volta gli regalano uno stuzzicadenti, una volta gli regalano un fazzoletto di carta e una volta una moneta, che mi sembra che Harry regala a Ron, perché per lui è stranissimo, in quanto non è un falcio, un galeone, uno zellino che vengono utilizzati nel mondo dei maghi, ma una moneta, tipo una sterlina sarà probabilmente. Quindi piccolo dettaglio che ve ne ho messo, però che carino da ricordare. Il quarto film comincia nel migliore dei modi e va migliorando. Infatti Harry riceve notizie da Ron che è stato invitato ad andare a vedere la finale della Coppa del Mondo di Quidditch, fra la Bulgaria, mi sembra, l'Irlanda, in cui Bulgaria c'è Victor Crum, ma loro ti fanno per l'Irlanda, ovviamente sono inglesi, e quando chiede permesso a Zio Vernon di andare a vedere questa coppa, lui dice no, solamente per il gusto di dirgli no. E lui dice va bene, allora vado a scrivere a mio padrino Sirius, che vorrà solamente sapere come sto. E il fatto che il proprio nipote possa scrivere a un pluriumicida, quanto riguarda, almeno sulla carta, non rende felice i tuoi zii che dicono va bene, va bene, ti ci facciamo andare, contatta il tuo padrino e digli che stai bene e sei felice. Se no fosse che per andare dai Weasley Harry non ci va volando, certamente non si può smaterializzare e non sa utilizzare la metropolvere come abbiamo visto la prima volta in cui finisce a Nocturale. Quindi cosa succede? Che i Weasley vanno a prendere Harry. Sono convinto che sto facendo un casino con uomini ragazzi, ma voi fate finta di niente. E come vanno a prendere Harry? Infatti se lo chiedono anche i Darset dicendo ma come arriveranno? Gli ha detto di vestirsi bene? Perché la loro paura non è tanto avere dei maghi in casa, ma il fatto che il loro arrivo possa far parlare la gente intorno, perché è tipo la via di Pettegoli, private drive. Però non si dovrebbero preoccupare, infatti non arrivano dalla strada, ma arrivano tramite la metropolvere nel cammino dei Darsley. Il problema è che il cammino dei Darsley, in cui arrivano prima Fred e George e poi arriverà Arthur, è murato, letteralmente è finto. Succede molto spesso nelle case, magari nelle case antiche in cui viene creato un caminetto, un camino, però nella versione moderna in cui non lo vuoi utilizzare viene murato, almeno non arriva l'aria da sopra, altre varie cose. Quindi loro arrivano e c'è letteralmente un muro di mattoni davanti a loro e Arthur lo fa saltare letteralmente in aria, ricoprendo di detriti e polvere e fuligi nell'intero salotto dei Darsley, che tra l'altro, ricordiamo, è Petunia, è fissatissima con le pulizie, però insomma non viene accolto nel modo migliore questo arrivo. Non vi ho dato un'immagine immediatamente dei Darsley, perché alla fine è molto simile a quella che viene data nei film. Abbiamo Vernon, che è questo mone grosso con i baffi da Terkeko, e che come caratteristica ha il fatto di diventare sempre più rosso e color pulce quando si arrabbia e si sembra che si gonfi, si dilati. Nell'altra parte abbiamo Zia Petunia, che viene descritta con la faccia cavallina, secca, magra, che tira su col naso ed è sempre fissa a guardare fuori dalla finestra per vedere le altre persone. Una pettegola, no? Che commenta in televisione quando parlano dei VIP, dicendo come se noi volessimo sapere la loro vita, quando in realtà è andata a aver seduto i rotocacchi per capire cosa è successo. Vedi, è anche un pochino falsa in fame. Ed Adel è questo bambino ciccionissimo che all'inizio va a scuola a Snobkin e c'è questo diviso con addirittura il bastone da passeggio, ma che poi comincia a fare box e diventa sempre più muscoloso e sempre meno grasso, ma sempre più scemo fondamentalmente. Quindi era il bullo di Harry e vederlo diventare sempre più muscoloso non è una cosa che renda particolarmente felice a Harry. Insomma, nel quarta liba arrivano Arthur e i due gemelli Weasley a prendere Harry, mentre Arthur sistema tutto, saluta i Darza e lo porta via. Fred e George fanno cadere una caramella che si scopre ad essere una mummolle lingua, una delle loro invenzioni che gli porta ad avere una lingua tipo formichiere, lunghissima, grossissima, che viene mangiata da Dudley, perché in quel momento è a dieta. Infatti Dudley gli hanno detto, mi sembra che la descrizione venne fatta è che il dottore gli aveva detto che non era sano che avesse un aspetto fisico simile a quello di un cucciolo di orca. E quindi il fatto che debba fare la dieta, Dudley è costituito a farla tutta, in tutti in casa. Vernon non è particolarmente contento e Harry si sbatte i coglioni perché si fa mandare i dolci via gufo dai suoi amici. E insomma, quando vede una caramella, Dudley dice, non posso farne a meno. Quindi va lì, la mangio, gli si confia la lingua. Arthur dice, no, no, lo sistemo io, ma quello che vedo da tirare fuori la macchetta che va verso il loro figliolo, impazziscono anche loro, cominciano a tirare i mattoni ad Arthur, tutti vanno via e Arthur sistema tutto con la magia, anche il cammino che se no aveva fatto. Anche se poi se la riprende con i suoi gemelli dicendo, non era divertente, queste sono le cose che miniano il rapporto fra i maghi e i babbani, bla bla bla. E finisce così praticamente la presenza dei Darsley nel quarto film. Arriviamo quindi al quinto. Nel quinto film finalmente ha dato un pochino di spazio ai Darsley perché era necessario, c'era la scena dell'attacco di dissenatore a Harry e a Didino Piccino e quindi non potevano farne altrimenti, anche se è un po' diversa. Nei film infatti si vede Dudley che fa il bullo con Harry e con i suoi amici, che lo va a provocare quando non è assolutamente vero, anzi è Harry a sperare che Dudley lo faccia così da avere un pretesto per attaccarlo davanti agli altri, ma non lo fa e Harry raggiunge Dudley mentre sta tornando a casa, prendendolo in giro, dicendo le cose che ha attaccato questo bambino solamente perché gli ha detto che sembra un maiale quando ha insegnato a parlare, a camminare sulle gambe di dietro, dicendo quella non è insulenza, è la verità e comunque continua a prenderlo in giro. E c'è questo scambio di battute che me lo ricordo tuttora, Dudley sorride e gli dice non sei così coraggioso la notte e Harry gli risponde Dudley è ora e notte, si chiama così quando il sole va giù, al che Dudley gli risponde parlo di quando dormi, di cosa dovrei avere paura quando dormo, del cuscino e Dudley lo prende in giro perché piange durante il sonno ricordando la morte di Cedric, al che Harry scapra, gli punta la bacchetta contro, si fa, si spengono le stelle, succede un casino perché arriva il dissenatore, in un primo momento Dario è convinto che sia Harry a fare questo, a fare un brutto scherzo alla magia, al punto che gli dà un pugno per farlo smettere, poi corre verso i dissenatori e Harry lo salva con l'expecto patronum, mandando il suo cervo a menare i dissenatori. Potrebbero essere cambiate leggermente le parole rispetto a come lo ricordo io, però più o meno il discorso era quello. Harry li porta Dudley a casa, qui c'è una delle scene più importanti di tutto il rapporto tra Harry e Dudley, infatti in un primo momento Harry non è convinto che sia stato Harry, aver gettato un maleficio su suo figlio perché Dudley spiega che quello che ha sentito è stato che non poteva più sentirsi felice, che era tutto buio, aveva freddo e solo quando Harry gli spiega che erano dissenatori si scopre veramente, capiscono cosa era successo e il colpo di scena è che Petune sa chi sono i dissenatori, infatti quando Harry nomina i dissenatori Petune dice fanno la guardia alla prigione dei maghi, Arskavan. Sono tutti sorpresi ma Petune dice che l'aveva sentito parlare da sua sorella e suo marito, quindi da Lily e James e questo fatto, sebbene passi un pochino, passi un po' inosservato, per me è molto importante perché non è facile ricordarsi un dettaglio così piccolo il fatto che lei ne abbia parlato una volta, se non se hai un grande interesse per l'argomento e considerato quello che succede nel settimo libro, beh c'è questo interesse. Quando Verno scopre che c'è Voldemort e sta di nuovo dando la caccia a Harry, decide che è stanco di magia e non vuole mettere a rischio a la propria famiglia e butta fuori di casa Harry, sebbene arrivi una strilletera indirizzata a Petunia che dice ricordati la mia ultima Petunia con una voce agghiacciante, terribile, mandata da Silente ricordando la lettera in cui lei, il momento in cui lei prendeva la responsabilità di crescere Harry fino alla sua maggiore età. Harry così rimane da Dusley fino a chi non arriva all'ordine delle fanisce che se lo porta via durante la notte dopo aver mentito a Dusley, i Dusley infatti non sono in casa perché sono convinti di andare a questa specie di fiera, a ritirare il premio per il giardino più curato dell'est Inghilterra, quindi in realtà sono andati a farsi un giro per niente perché non esiste questa cosa semplicemente una cosa falsa mandata da Tonks per mandarli via, e Harry va via da Dusley ancora una volta. Però questa volta c'è una scena post-credit se vogliamo, infatti i Dusley tornano alla fine del libro, ancora una volta vanno a prendere Harry alla stazione ma dopo la morte di Sirius gli altri membri dell'ordine della finisce vogliono assicurarsi che i Dusley non trattino male Harry. E infatti quando Harry arriva alla stazione di King Cross ci trova Tonks, ci trova Lupin, ci trova Arthur, ci trova i Fred e George che trattano tipo sti cappotti di pelle di drago tamarrissimi e ci trova Malocchio Modi. E tutti insieme vanno verso i Dusley e li minacciano. Infatti cominciano a parlare dicendo se sappiamo che trattate male Harry e lo verremo a sapere, se non gli fate usare il telefono o altro, ne dovrete rispondere a noi. A che Berno tutto inorgoglito cerca di rispondere a Ton, dice non mi risulta che come trattato mio nipote a casa mia sia far vostro e Modi gli ringhia contro delle cose che non ti risultano, ci si potrebbe scrivere un libro. E poi quando dice ne dovrete rispondere a noi se trattate male Harry, Berno si gira verso Moody, perché tipo è vestito con una bombetta, quindi pensa sia tipo un animo affine, non è vestito da mago, e gli dice mi stai minacciando? Sì, ti sembra un uomo che si fa intimorire, e Moody si alza il capello e mostra l'occhio magico rotante che Berno fa un balzo indietro e picchia tipo su un carrello, fa un casino, e Moody risponde sì mi sembri un uomo che si fa intimorire. Sebbene questa scena mi abbia sempre reso molto felice, la importanza del rapporto Ferry e i Dusley diventa molto più marcata nel sesto e nel settimo libro, e sono molto contento di vedere come sia stata completamente cancellata la presenza dei Dusley nel sesto film. Ottimo lavoro, veramente ottimo lavoro, ma detto alla Hancock per davvero. Nel sesto libro infatti Harry non si trova in un baretto a prendere caffè e rimorchi alle ragazze, no. Harry si trova dai Dusley, ovviamente, cerca di capire cosa cazzo succede nel mondo, e ha ricevuto una lettera da Silente che gli dice, dopo un paio di settimane che si trova da Dusley, che sarebbe andato a prenderlo lui stesso per portarlo alla Tana, e Silente arriva a casa dei Dusley, entra e parla con i Dusley, è una delle scene più belle di sempre, perché sebbene i Dusley siano sempre stati arroganti e si siano sempre posti in un certo modo nei confronti dei maghi, lo fanno sia quando arriva Ardur la prima volta, sia quando incontrano gli altri maghi della stazione, con Silente non ci si provano, perché avvertono che è un mago un po' diverso di altri, sebbene Silente sia l'emblema dei maghi, cioè è molto eccentrico, perché c'ho questa barba lunghissima, i capelli bianchi lunghi, questo cappello da mago e il vestito lunghissimo, no, quindi è proprio il mago merlino per eccellenza. Però non ci provano a trattare male, ci sono delle scene bellissime, infatti Harry è già pronto per andare, quando arriva Silente dice, credo dovremo abusare dell'ospedale di tua zia ancora per un po', che Vernon risponde qualcosa tipo, ah lei crede? E Silente dice, sì, basta! Si siedono in salotto, Silente evoca tipo del whisky, dell'idromele baricato credo, e ne versa magicamente un bicchiere per ognuno, e questi bicchiere cominciano tipo a tocchicchiare dolcemente la testa dei Dusley, no? Mentre lui intanto parla con Harry, gli spiega tutte le farcende tipo sull'eredità di Sirius, così, e loro osservano, sono seduti sul divano uno accanto all'altro, e siccome Vernon e Darli sono di massiccioni, quindi immagino che tipo, zio per tu si è tipo così, e mentre Silente continua a parlare con Harry, questi bicchiere cominciano a picchiettare sempre con maggiore insistenza sulla testa dei Dusley, fino a che non cominciano a fare un casino, tutto così, perché non vogliono berli, al che Vernon rugisce, può farli smettere, Silente fa, ah sì, mi scusi, gli fa sparire e fa, però sarebbe stato più educato bere, e te sei lì che c'è un'elezione gigante e la usi un bel segnalibro, perché ti devi, cioè, incredibile, però Silente non ha finito di rostare i Dusley, infatti ad un certo punto si gira verso i Dusley e dice, quando vi ho lasciato Harry molti anni fa, abbiamo lasciato il ragazzo con la speranza che l'aveste cresciuto come un figlio vostro, con amore e rispetto, Harry non ha mai conosciuto niente di tutto ciò, da voi non ha conosciuto altro che odio e sofferenza, e non sa rabbia, non lo dice urlando, perché Silente non urla, ok, è Silente, però comunque trasmette quest'aura gelida, infatti tipo, loro si dà minchia ancora un pochino più sul divano, intanto per lui, intanto così come sempre, e dice, però almeno ha scampato l'orribile destino che avete causato a quest'altro ragazzo, indicando Dudley, ovviamente, e loro sono confusi, perché per loro non hanno fatto male a Dudley, facendolo diventare un balenottero, biziato, capito? Quindi è interessante vedere come funzionano le cose, al che Silente prende Harry e lo porta via, e tanti cari saluti. Infine arriviamo al settimo libro, il settimo libro inizia con Harry che sta, in realtà inizia in un altro modo, ma il settimo libro, il ruolo di Harry e di Darsley inizia con Harry che sta sistemando la sua camera, perché sta abandonando per sempre, se andrà alla Tana, dove farà la maggior età, e così tostare a Darsley però deve andarsene via prima che faccia la maggior età, infatti nel quinto libro veniva svelato che lui era stato costretto a stare da Darsley ogni estate per via della traccia, per via della sicurezza, della protezione che ha nella casa dei Darsley, ovvero, dato che la sua madre è morta per proteggerlo e in Petunia c'è lo stesso sangue e l'ha colto in casa sua come suo figlio, trattandolo male, ma l'ha colto in casa sua, ha esteso la protezione che sua madre aveva imposto su Harry anche in quella casa, quindi Voldemort non potrà mai toccarlo finché lui è in quella casa da minorenne, per questo motivo se ne deve andare prima e diventi maggiorelle. Mentre si stavano tutte le robe, si taglia con un frammento del specchio che gli aveva regalato Sirius, esce dalla stanza e pista una tazza di tè che era per terra e lui pensa che sia uno scherzo idiota di Dudley, leva via i cocci, butta via tutto, si cura e poi arrivano coloro che devono portare via Harry e i maghi sono sorpresi nel vedere che ai Darsley non gli importa una sega di Harry, infatti quando se ne stanno per andare, infatti i Darsley ne andranno via prima in macchina smaterializzati altrove e Harry se ne andrà via dopo con le scope come da piano di Moody, in realtà di Mundungo suggerito da qualcun altro, l'unico che si fa delle domande, nel saluto, infatti si stengono la mano velocemente, si salutano, l'unico che si fa delle domande è Dudley, infatti Dudley quando vede che si stanno per separare dice, ma lui dove va? parlando di Harry, al che i suoi genitori sono preoccupati perché non l'hanno mai visto esprimere interesse nei confronti di Harry e i stessi maghi dicono, ma come lo saprete dove va il vostro nipote? No, va con qualcuno di voi, loro sono offesissimi perché altrimenti lui è Harry Potter, l'unica speranza nella lotta contro Voldemort e vedere le persone che trattano di merda Harry sicuramente non gli fa piacere. Al che Harry risponde, non ti preoccupare, non è un problema, loro pensano che io sia inutile. Al che Dudley risponde, in non penso che tu sia inutile, tu mi hai salvato la vita, parlando ovviamente di come l'ha salvato dai disegnatori nel quinto libro. Segue una scena molto cringe in cui Harry cerca di precisare che gli ha salvato l'anima e non la vita, capisce che la tazza di tè appoggiata vicino alla porta di camera non era uno scherzo di Dardy, ma era un gesto d'affetto nei suoi confronti che aveva mal interpretato, e si salutano dicendo, sta in gamba Big D e ognuno va per la sua strada. Quando Harry saluta la famiglia Dardy c'è un momento di pausa in cui Zia Pertune si gira verso di lui, sembra voglia di dire qualcosa, ma poi non gli dice niente, che probabilmente è riferito al fatto che comunque lei è l'unico parente in vita di fatto di Harry, di sangue, oltre al suo cugino ovviamente, ma comunque lei è sua zia, e ci sarebbe tanto da dire, ma non c'è il coraggio nella voglia di dirlo, probabilmente. E di Dardy non si sa più niente, poi che la Rowling abbia detto cosa è successo a Dardy dopo, non mi interessa, ripeto, vi parlo solamente di quello che succede nei libri, è interessante analizzare la figura di Dusley, perché si capisce perché Petunia odi su sorella e Harry. Infatti nel settimo libro, quando Harry vede i ricordi di Piton, scopre anche che quando Petunia aveva scoperto che Lily era una maga, aveva implorato Silente di andare anche lei a Hogwarts, perché voleva andarci anche lei, e invece Silente, sebbene fosse stato gentile, lei aveva detto che non poteva perché non era una maga, e quindi Petunia era stata costretta una vita di banalità, di ordinarietà, un'ordinarietà che poi si era estesa anche a suo marito, cioè è il classico, la classica persona più banale che c'è, Vernon, ok? E per questo odiava sua sorella, sua sorella era speciale, sua sorella era favorita dei genitori, secondo lei ovviamente, e odiava anche Harry, perché Harry era il simbolo di sua sorella, era anch'esso speciale, era ciò che lei non aveva potuto mai essere, e per questo motivo probabilmente c'è tanto odio nei suoi confronti. Di là invece è interessante vedere che la sua figura ha un bel parallelismo come quella di Malfoy, infatti sono entrambi bulletti, sebbene uno è babbano, uno è mago, entrambi sono snobbe, entrambi trattano male Harry, e hanno una sorta di rivalza nel corso del tempo, sono entrambi persone che sono negative ma per colpa dell'influenza dell'ambiente in cui sono cresciute, e che quindi non vanno troppo giudicata per quello. Spero di avervi dato un'immagine un pochino più chiara di chi sono i Dursley, ho messo tante cose ovviamente, come sempre il mio invito è leggere libri per scoprirli appieno, però almeno potete capire che ruolo hanno ricoperto nel corso della saga letteraria di Harry Potter, e che non sono precisamente quel trio di stronzi che appare nei primi libri e che poi va scomparendo nei quelli successivi, ma sono qualcosa di più, come ogni personaggio all'interno di Harry Potter. Però vi sia piaciuto questo video, mi sembra di essermi un pochino incassato su alcune cose, dal tono stavo parlando di tre personaggi e non di uno, e stavo parlando di personaggi che ovviamente c'erano dall'inizio dei tempi, e che la cui presenza comunque era un po' articolata. Quindi spero di essermi spiegato al meglio delle mie capacità. Siamo in linea di chiesura, come al solito vi ricordo che ci sono tutti i link social in descrizione, in particolare il link al gruppo Telegram dove siete benvenuti, e al canale Twitch dove vado in live quasi tutte le sere e tra volte pomeriggio. Quindi se volete seguirmi anche lì, possiamo chiacchiare di qualsiasi cosa in diretta. Grazie mille per aver visto questo video, vi lascio con questa bellissima maglietta del platano picchiatore, che purtroppo non lo potete vedere perché non funziona, ci ho provato prima, però si illumina al buio e appaiono i quattro malandrini. È molto bella. Grazie mille per aver visto questo video, buono buono, buono buono buono.